Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui vediamo qualche approfondimento sul grafico della legge oraria nel motorettino uniformemente accelerato. Come vedete qua nel titolo commesso, strato di introduzione alla parabola. Infatti, il grafico della legge oraria nel motorettino uniformemente accelerato, abbiamo già visto in alcuni esempi che tipo di andamento ha, che tipo di forma può avere. E questa forma è una curva molto importante, che studierete anche meglio in matematica più avanti, e sulla quale però abbiamo bisogno di dire qualcosa già adesso, proprio perché ci è utile per affrontare il motorettino uniformemente accelerato. D'altra parte, è anche un buon modo, secondo me, introdurre certi tipi di funzioni, non in maniera completamente astratta, ma all'interno di un contesto. Quindi, per esempio, secondo me, un buon modo per introdurre una funzione lineare è insieme al motorettino uniforme. E quindi un buon modo per introdurre la parabola può essere introdurla insieme al motorettino uniformemente accelerato. Quindi questo è quello che facciamo, in realtà lo facciamo per necessità, ma potrebbe anche essere una scelta, eventualmente. C'è per necessità perché nel programma di matematica è strutturato in maniera tale che questa cosa si studia dopo. Semplicemente. Quindi noi non faremo una trattazione completa della parabola, ma diremo alcuni aspetti che poi magari approfondirete meglio o dimostrerete meglio nel corso in matematica. Però inizieremo a vederne, appunto, alcune cose che ci servono e che spero vi possano anche servire quando studierete la parabola in maniera più approfondita nel corso in matematica. Quindi, iniziamo con ricordare la nostra legge oraria, la formula. Abbiamo visto, abbiamo dimostrato questa formula utilizzando quella tecnica dell'area. Avevamo già osservato, quindi questa qui è la formula da leggerare di cui avevamo spiegato i vari termini. Se non vi ricordate bene, vi rischio di andare a ripassare adesso il video in cui l'abbiamo dimostrato. Questa è una funzione, come vedete, quindi è una funzione che dà la posizione al variare del tempo, t, quindi questa è la variabile indipendente, il tempo. Vedete che questo è un polinomio di secondo grado, quindi ad esempio, se ci mettiamo dei numeri, non so, a caso, più magari, non so, 5, t alla seconda. In un caso particolare potrebbe venire una cosa del genere, d'accordo? Quindi, vedete, queste sono le costanti, o parametri, per meglio dire, che caratterizzano questa funzione e questa è la variabile, d'accordo? Quindi, come vedete, viene fuori un polinomio di secondo grado, e a differenza di quello che succedeva nel moto rettilineo uniforme. Se vi ricordate, moto rettilineo uniforme, piccolo flashback, avevamo una cosa del genere. posizione iniziale più velocità, qui non c'è bisogno di mettere velocità iniziale, perché la velocità iniziale è uguale a quella che c'è in tutti gli istanti, è una velocità costante per tempo, quindi c'è una parte che è molto simile a questa prima, però non c'è un termine quadratico, non c'è il termine con t alla seconda, quindi questa qui è una funzione lineare, o un polinomio di primo grado, e invece questa qui è una funzione quadratica, cioè un polinomio di secondo grado, d'accordo? Sono sinonimi queste due, funzione quadratica, o polinomio di secondo grado, o funzione lineare, polinomio di primo grado. Quindi questa è la forma della nostra funzione. Vogliamo adesso approfondire un pochino il grafico, un pochino più in generale, anche se l'abbiamo fatto già in diversi esempi, per cui richiamerò un pochino gli esempi che abbiamo fatto in passato. Una funzione quadratica di questo tipo, voi l'avete già parzialmente studiata l'anno scorso, quando avete introdotto appunto, o in fisica quando avete parlato un po' delle proporzionalità, o in matematica quando avete introdotto le funzioni, dovreste aver visto qualcosa del genere, y uguale a x al quadrato, o magari l'avete scritta come f di x uguale a x al quadrato, qualcosa del genere. E avete chiamato questa funzione proporzionalità quadratica. Un esempio di proporzionalità quadratica, per esempio, che magari potreste aver visto è, non so, l'area di un quadrato in funzione del lato. Magari se x è il lato e y è l'area di un quadrato, naturalmente y è uguale a x alla seconda. Questo è l'esempio più semplice di funzione quadratica. E dovreste aver visto una cosa del genere. Probabilmente avete fatto il grafico solamente sulla destra, perché magari in questo esempio non avrebbe senso considerare valori negativi se x rappresenta un lato. Vi faccio notare però che questa cosa potrebbe essere calcolata anche per valori negativi. Quindi, per esempio, se io considero x uguale a 1, qua mi viene 1. Se considero x uguale a 2, qua mi viene 4. Però se considero x uguale a meno 1, meno 1 al quadrato è di nuovo 1 e quindi trovo lo stesso valore. Meno 2 al quadrato è più 4 e quindi trovo lo stesso valore di qua. E quindi vedete che vi viene fuori, in realtà, se volessi fare un grafico completo, se per valori di x positivi che per valori di x negativi, di questa funzione, mi viene fuori un grafico che risulta, vedete, una delle caratteristiche importanti che tra poco analizziamo, risulta simmetrico rispetto a un asse verticale. D'accordo? Quindi queste cose penso che le abbiate almeno in parte viste l'anno scorso, ma, diciamo, ripartiamo da qui, ecco, per descrivere questa funzione. Questa funzione, vedete, è un pochino più complessa di questa qui, perché non c'è solo un termine con x alla seconda, che corrisponderebbe a questo qua, vedete, 5t alla seconda, ma ci sono anche dei termini con la variabile al primo grado o termini costanti. Quindi ci possono essere tutti e tre, ci possono essere solo due di questi termini, o, per esempio, quello quadratico e quello lineare, si dice, c'è quello di primo grado, quello quadratico e la costante. Quindi questo esempio qua è il più semplice, se volete, che abbiamo visto, che dovreste aver visto, e l'abbiamo rivisto anche noi, se vi ricordate, perché in uno degli esempi che avevamo fatto, questo, che era il primissimo esempio che abbiamo fatto sul moto uniformemente accelerato, era un corridore che partiva da fermo, e il suo grafico, posizione-tempo, se vi ricordate, veniva proprio una cosa del genere, mentre il grafico velocità-tempo, scusate, sì, 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 giusto, grafico velocità-tempo, veniva una retta, quindi questo, di nuovo, è una proporzionalità quadratica, perché se, vedete, parte da fermo, quindi la velocità iniziale è 0 e la posizione iniziale è 0, ci rimane solamente un termine, per esempio, rimanerebbe solamente un termine del genere, quindi una proporzionalità quadratica, proprio simile a quella che conoscevate, che avete già, già comunque, almeno incontrato, almeno una volta, anche se non so quanto vi ricordate. Quindi, di nuovo, qui abbiamo considerato solo tempi positivi, però avrei potuto, se avessi potuto fare il grafico complesso della funzione, naturalmente c'errebbe dato anche questo ramo, dal punto di vista fisico, naturalmente, in questo caso, siccome t è uguale a 0 alla partenza del corridore, non ci interessavano tempi negativi, ma non è detto che in altri contesti non ci possano interessare. Questo era il primo esempio che avevamo visto. Vi ricordo qualche altro esempio che abbiamo visto nella lezione, appunto, di introduzione a motorettilineo uniformemente acerato, in cui ho fatto già qualche esempio di grafico, perché continuo a farlo in rosso. Quindi, il secondo esempio che avevo fatto era un corridore diciamo che all'istante 0 si trovasse già in moto con una certa velocità, quindi, magari faccio di là il grafico velocità-tempo come ho fatto prima, quindi il grafico velocità-tempo veniva una retta non passante per l'origine, ma passante per un altro valore, che era la velocità iniziale, in questo caso avevamo visto la forma del grafico potrebbe essere poteva essere una cosa del genere, quindi sempre un arco di curva non riesco a farlo bene sempre un arco di curva, magari fatto così anche qui, se avessimo fatto il grafico completo della funzione, sarebbe venuta una cosa del genere questa sarebbe la posizione e questa è la velocità in quel contesto ci interessava solo questo ramo del grafico completo avevamo visto anche per esempio vi invito ad andarveli a rivedere se non vi tornano questi esempi perché li sto solo riprendendo velocemente visto che li avevamo già visti e poi c'era un oggetto che si ferma che arriva a velocità 0 o se volete anche nell'esempio del sottomarino che arriva a velocità 0 e poi inizia a ritornare indietro potremmo avere un grafico della velocità del genere e il grafico di posizione corrispondente era una cosa di questo tipo fa con una certa velocità si ferma quella macchina si fermava qua in realtà e invece il sottomarino iniziava ad andare indietro e il grafico veniva una cosa del genere quindi vedete di nuovo che ricorda la forma di quelle che abbiamo visto prima questa è una concavità verso l'alto corrisponde a un'accelerazione positiva come avevamo visto in passato e questa è la concavità verso il basso e un altro esempio concavità verso il basso che abbiamo fatto e che abbiamo corretto sia insieme sia ho fatto anche un video a proposito è quello di un oggetto che cade un oggetto che cade con velocità iniziale 0 ha un grafico di velocità che ha questa forma e il grafico di posizione di nuovo ha una forma di curva più o meno fatto così e qui con velocità iniziale 0 d'accordo quindi tangente orizzontale e qui di nuovo se vi ricordate l'altro video ho detto il grafico completo sarebbe una cosa del genere con anche quest'altro ramo però dal punto di vista fisico ci interessa solo questo l'ho fatto vedere anche con GeoGebra come veniva fuori quindi veniva una funzione del genere una funzione con un grafico del genere d'accordo? a partire da questi esempi vediamo innanzitutto abbiamo visto che senz'altro il grafico posizione tempo quindi un grafico di una funzione del genere con t alla seconda non può essere una retta fosse una retta non ci sarebbe il t alla seconda per cominciare e dal punto di vista fisico se fosse una retta sarebbe un moto uniforme e non accelerato quindi il fatto che il moto sia quindi un moto accelerato qualsiasi il grafico xt sarà sempre un ramo di curva diciamo così e non una retta però la cosa interessante è che nel moto uniformemente accelerato quindi quando abbiamo una funzione quadratica di questo tipo il grafico non è una curva qualunque è proprio una curva particolare che appunto si studia non solo in fisica ma anche in modo approfondito in matematica e questa curva si chiama parabola quindi quello che possiamo dire adesso l'anno prossimo o anche l'anno prossimo o forse in parte anche già quest'anno dipende un po' potreste vedere una una definizione matematica anche diversa è collegata a questa ma diversa della parabola per ora noi come parabola intenderemo il grafico di una funzione quadratica del tipo diciamo f di x uguale spesso quando uno la scrive in generale la scrive così e la scriverete così spesso nel nostro caso particolare naturalmente questo spesso noi l'abbiamo scritta con i termini inversi in ordine spesso quando la scrivete in generale la mettete in maniera ordinata per grado non è che sia una cosa così importante quindi nel nostro caso la funzione è la posizione la variabile indipendente è il tempo questo termine a è un mezzo per l'accelerazione se vi ricordate e questo corrisponde a questo questo termine b quello di primo grado corrispondeva alla velocità all'istante zero e questo termine quello costante è la posizione iniziale d'accordo? quindi abbiamo queste corrispondenze faccio questa corrispondenza perché così magari quando studierete questa cosa in matematica riuscirete a fare bene il collegamento con quello che abbiamo fatto un po' come quando abbiamo studiato il moto rettilineo uniforme la funzione lineare voi l'avevate scritta magari così in matematica e in fisica per descrivere il moto rettilineo uniforme uno scrive questo e fa le corrispondenze fra i vari oggetti d'accordo? quindi questo coefficiente angolare corrispondeva alla velocità e questa intercetta corrispondeva alla posizione iniziale nel stesso modo possiamo collegare il significato fisico dei nostri coefficienti con questi coefficienti della funzione quadratica generica d'accordo? quindi come dicevo di questa parabola noi adesso diciamo qualche caratteristica generale non tutte naturalmente non dimostriamo magari tutto quello che diciamo però vediamo alcune caratteristiche importanti della parabola e per alcune scopriamo che in realtà le abbiamo già analizzate dal punto di vista fisico e sappiamo già dare loro un significato in termini fisici alcune caratteristiche importanti naturalmente importanti quindi prima caratteristica importante che ha una una parabola quindi alcune caratteristiche importanti del grafico di una funzione quadratica ok? che abbiamo chiamato appunto parabola quindi queste caratteristiche importanti sono 1 la forma generale è questa quindi una funzione quadratica di quel tipo lì ha questa forma che abbiamo visto in parte nei vari esempi quindi può avere una forma di questo tipo scusate farò dei grafici abbastanza orribili a mano però magari ne vediamo poi qualcuno con GeoGebra quindi ha una sorta di forma che può essere o di una scodella diciamo così quindi una sorta di U non è proprio una U in realtà perché questi rami non diventano mai verticali è come una V arrotondata se volete oppure ha una forma di questo tipo quindi possiamo avere queste due forme faccio i puntini perché si estende all'infinito quindi una forma del genere quindi o di scodella diciamo così o di collina se volete una caratteristica importante è che c'è simmetria rispetto ad un'asse verticale che passa per questo punto che viene chiamato vertice questo qui viene chiamato vertice dove c'è il punto di massimo o di minimo se volete più alto o più basso secondo dei due casi e c'è appunto una simmetria rispetto a un'asse passante per il vertice a un'asse verticale passante passante per il vertice d'accordo quindi questa è la prima caratteristica ora dal punto di vista fisico cosa come si potrebbe interpretare questa simmetria se vi ricordate quando abbiamo visto il per esempio il motto del sottomarino se vi ricordate è uno degli esempi che ho visto prima lo riscrivo brevemente qua nel motto del sottomarino avevamo come velocità una funzione di questo tipo e questo punto qui era il punto dove c'è velocità zero cioè c'è l'inversione di rotta inversione di marcia se volete più che di rotta e qui questo corrispondeva a una cosa del genere quindi questo era il punto dell'inversione di rotta cioè di marcia scusate di nuovo e poi avevo un andamento del genere cosa significa questa cosa qui cosa significa che il grafico è simmetrico rispetto a questo asse centrale significa che in buona sostanza la fase di in cui frena di decelerazione e quella di accelerazione ma all'indietro sono sono simmetriche se volete cioè questa fase si può interpretare si potrebbe vedere come facendo andare l'indietro il filmino della frenata se volete il sottomarino che frena fate andare l'indietro il filmino trovate la seconda parte del moto diciamo e questo si può vedere per esempio da qui perché ad ogni secondo vedete la velocità è simmetrica adesso non mi ricordo più in quell'esempio bisogna andare a rivedere che accelerazione c'era però se voi vedete supponiamo che questi siano tre secondi ok non erano esattamente i numeri che c'erano là ma supponiamo 1, 2, 3 4, 5, 6 ok quindi supponiamo che questo magari se l'accelerazione fosse meno 2 magari se partiamo da 6 dopo un secondo abbiamo velocità 4 dopo due secondi abbiamo velocità 2 e poi a 0 secondi scusate a 3 secondi abbiamo velocità 0 poi dopo un secondo vedete abbiamo velocità meno 2 cioè simmetrica rispetto alla velocità che avevamo qui dopo 5 secondi abbiamo la stessa velocità che avevamo a 1 secondo ma andando indietro e dopo 6 secondi abbiamo una velocità pari a quella che avevamo inizialmente a 0 secondi quindi rispetto a questo punto centrale vedete c'è una simmetria della velocità anche se qui la velocità è positiva e qui la velocità è negativa significa che quando ritorniamo indietro a istanti di tempo che distano allo stesso modo dall'istante di cambio di marcia abbiamo appunto lo stesso valore di velocità ma soltanto in modulo naturalmente in segno opposto quindi questo ci fa capire che se qui per esempio supponiamo 2 secondi avevamo velocità 2 quindi qui abbiamo pendenza 2 a 3 abbiamo 0 a 4 abbiamo pendenza meno 2 quindi il grafico diventa e questo vale per ogni istante a destra e a sinistra dello spartiacque costituito dall'istante in cui si ferma e questo crea un grafico simmetrico d'accordo? quindi dal punto di vista fisico significa che se il moto è uniformemente accelerato la fase di frenata e la fase di riaccelerazione sono simmetriche in buona sostanza questo un esempio di questo si vede bene in un altro esercizio che non vi ho ancora dato ma che vi darò magari per le vacanze e questo quando voi lanciate in alto un oggetto dopo che si lanciate verticalmente quindi frena si ferma e poi riaccedera il grafico che viene fuori di nuovo è molto simile a questo e quello che succede è appunto che la fase di salita è simmetrica rispetto a quella di scesa se volete quindi se voi fate andare riprendete una persona l'oggetto mentre sale e poi fate andare il filmino al contrario rivedete esattamente quello che vedreste se lasciaste cadere l'oggetto ok, quindi questo è per quanto riguarda la simmetria del nostro grafico poi un secondo aspetto importante che possiamo analizzare subito è il significato del coefficiente a quindi il significato del coefficiente del termine quadratico quadratico dal punto di vista fisico il termine quadratico il coefficiente del termine quadratico è legato all'accelerazione o meglio è un mezzo per la componente x dell'accelerazione quindi è strettamente legato a quello e quindi analizziamolo nel caso in cui gli altri termini non ci siano in realtà è esattamente uguale il suo significato anche quando quegli altri termini ci sono ma forse è più facile vederlo così in maniera che ci concentriamo solamente su quello quindi se noi abbiamo il nostro grafico questo rappresenta abbiamo detto supponiamo x e t uguale ok un mezzo a x t alla seconda quindi questo se noi cambiamo questo coefficiente a cosa corrisponde? corrisponde a cambiare appunto l'accelerazione quindi se questo coefficiente è grande vuol dire che l'accelerazione è grande cosa vuol dire che l'accelerazione è grande? che cambia più velocemente la velocità cioè che cambia più velocemente la pendenza del grafico quindi se io prendo un se la pendenza del grafico cambia più velocemente vuol dire che ci sarà una cosa del genere quindi se io se qui sono due corridori che accelerano entrambi partendo da fermi quello rosso accelera più velocemente quindi aumentando questo coefficiente si ha una parabola più stretta se volete viceversa diminuendo questo coefficiente si ha una parabola più larga questo è vero in generale e di nuovo lo interpretiamo dal punto di vista fisico facilmente perché un'accelerazione più bassa corrisponde a una parabola più dolce è un'accelerazione più alta una parabola più più chiusa quindi di nuovo potete se vi ricordate questo quando studierete la parabola non avrete difficoltà a interpretare il coefficiente del termine quadratico qui naturalmente ho disegnato solamente il ramo che ci interessa ma in entrambi i casi ci sarebbero entrambi i rami della parabola che abbiamo detto a un grafico simmetrico in generale un'altra cosa che possiamo osservare quindi se l'accelerazione è grande diciamo la parabola è più più stretta se volete invece a x piccolo la parabola è più più aperta va bene quindi un'altra cosa che possiamo osservare riguarda il segno di questo coefficiente perché abbiamo già visto che l'accelerazione positiva corrisponde a una concavità verso l'alto è un'accelerazione positiva l'accelerazione negativa corrisponde a una concavità verso il basso e questo è vero sempre non è vero solo nel moto uniformemente accelerato quindi questo ci permette di nuovo di capire una cosa in più sulla parabola quando il coefficiente del termine quadratico sarà positivo avremo una parabola che sorride diciamo così rivolta verso l'alto così quando invece abbiamo un primo coefficiente che è negativo quindi per esempio non so se avessimo x e t uguale meno 2t alla seconda supponiamo questa è un'accelerazione di meno 4 allora avremmo una parabola che è rivolta verso il basso come concavità d'accordo? queste parabole qui che ho disegnato adesso sono quelle senza gli altri termini quindi passano tutte per l'origine o hanno vertice nell'origine scusate per do meglio dire in generale comunque il significato di questo coefficiente rimane lo stesso anche se siete con parabole più complesse vi faccio vedere anche a questo proposito il grafico con GeoGebra magari d'accordo qui ho una parabola con ho messo i tre coefficienti e è questa formula rossa la parabola che state vedendo qua le altre lasciate perdere se io aumento vedete il coefficiente a la parabola si chiude se lo diminuisco si apre e se lo prendo negativo viene una parabola con concavità opposta vedete che se io cambio questi altri coefficienti in realtà sposto la parabola ma la questione della concavità rimane uguale dipende solo dal primo coefficiente d'accordo quindi perché solo il primo coefficiente contiene l'accelerazione che è relativa appunto al cambio di dipendenza e quindi governa la concavità diciamo così ora se un'altra cosa che possiamo vedere è il significato del coefficiente che viene chiamato in matematica normalmente viene chiamato coefficiente c che corrisponde se andiamo a rivedere la nostra formula a questo quindi il termine costante nella formula corrisponde alla posizione iniziale d'accordo? quindi nella posizione iniziale andiamo a vederci cosa succede noi sappiamo in realtà cosa succede già quindi questa è l'osservazione 3 significato del termine costante e questo lo sappiamo perché è il nostro x con 0 cioè la posizione all'istante 0 quindi se vi danno una formula del tipo che ne so xt uguale meno 5t alla seconda più t più 3 questo il termine costante sappiamo che rappresenta la posizione all'istante t uguale a 0 e lo vedete anche subito perché se sostituite t uguale a 0 qui questi termini se ne vanno e vi rimane proprio x 0 uguale a 3 ok quindi questo non dovrebbe creare troppi problemi spero e dal punto di vista del grafico quindi se noi abbiamo ve lo faccio vedere subito con GeoGebra che è meglio vedete che se noi abbiamo per esempio qui ho preso x alla seconda più 2 o non so 2x alla seconda per esempio una parabola un po' più stretta più 2 quindi c uguale a 2 se metto 3 semplicemente toccherà in 3 se metto meno 1 tocca in meno 1 d'accordo? in questo caso vedete quando b uguale a 0 abbiamo una parabola simmetrica rispetto all'asse rispetto all'asse verticale ok questa cosa qui è forse sulla parabola il coefficiente più complesso da vedere quindi faccio un'osservazione lo stesso ma in realtà poi questo lo approfondirete meglio in matematica quindi abbiamo il significato del coefficiente del termine di primo grado che in matematica viene di solito chiamato coefficiente b e qui ha il significato di velocità all'istante 0 quindi vuol dire la pendenza della parabola nel punto t uguale a 0 nel punto corrisponde a t uguale a 0 quindi se io prendo b uguale a 0 come vedete la pendenza è 0 vuol dire che la velocità all'istante iniziale cioè l'istante 0 è 0 quando voi cambiate questo quindi prendo b positivo per esempio vedete che la velocità all'istante 0 cioè la pendenza in questo punto sarà una pendenza positiva perché la tangente è qui a pendenza positiva se lo prendo negativo ha pendenza negativa quindi questo è tutto quello che diciamo per adesso è utile osservare sempre quando b uguale a 0 cioè la velocità iniziale 0 abbiamo una parabola centrata sull'origine così quindi una cosa del genere l'abbiamo vista per esempio con la caduta della noce di cocco era una parabola fatta più o meno così questa parte non ci interessava ma sarebbe stata una parabola del genere l'accelerazione sarebbe stata a meno 5 e la velocità iniziale sarebbe stata 0 e la posizione iniziale sarebbe stato il punto a cui facciamo cadere la nostra noce di cocco quindi se la facciamo cadere a 3 metri verrebbe una cosa del genere se la facciamo cadere da 20 metri viene il grafico che avevamo visto nella correzione dell'esercizio quindi quando b è uguale a 0 ne possiamo avere o parabole verso il basso o verso l'alto a seconda del primo coefficiente però saranno centrate sull'asse verticale invece quando b è diverso a 0 avete vedete il vertice si sposta a destra o a sinistra questo dipende anche dipende sia da b che da a quindi studierete più avanti in matematica bene come si trova il vertice della parabola per ora noi se dovremmo individuare il vertice lo faremo osservando usando la simmetria della parabola quindi se io ho una parabola immaginate una parabola fatta così per esempio vedete che passa per 0 e per 3 allora so che essendo simmetrica il suo vertice dovrà essere in t uguale 1,5 quindi noi faremo così per individuare il vertice della parabola usando la sua simmetria però scoprirete in matematica altre tecniche e approfondirete meglio le caratteristiche del grafico della parabola del vertice e di tutte le sue caratteristiche quindi io direi che mi pare di aver detto tutto quello che volevo dire e quindi queste cose qua sono quelle che ci serve sapere secondo me sulla parabola e sul grafico delle funzioni quadratiche per interpretare bene i nostri problemi sul moto uniformemente accelerato come sapete una cosa molto utile è fare sempre sia la trattazione analitica cioè con i calcoli sia la trattazione grafica e unirle insieme questo vi aiuterà non solo in fisica ma anche in matematica a risolvere equazioni disequazioni sistemi e quant'altro l'interpretazione grafica deve sempre secondo me andare di pari passo con quella analitica perché vi permette da una parte un controllo dei calcoli dall'altra vi suggerisce magari a volte alcuni risultati che dovrebbero venirvi dai calcoli e infine insomma più interpretazione abbiamo per un certo fenomeno un certo problema e più approfonditamente lo conosciamo e lo abbiamo compreso quindi sempre nella nostra ottica in cui non è trovare un risultato che ci importa ma è comprendere un problema e comprendere gli strumenti che servono per risolverlo quindi vi lascio e sono riuscito incredibilmente a fare un video non estremamente lungo e spero che possa esservi utile per affrontare gli esercizi come al solito vi suggerisco di guardarlo bene prendere qualche appunto perché poi è più facile da ripassare è più facile ripassare sul vostro quaderno gli appunti che non doversi riguardare un video di 40 minuti quindi con questo vi saluto e buona Pasqua vi ho già augurato ma ve lo ridico e ci vediamo tra qualche giorno ciao a tutti